Troviamo questo nell'ordinario, in emergenza, poi saremo bravi, ma ci perdiamo sempre qualche cosa. Ed è l'elemento che ci distingue questo, l'elemento che ci distingue è proprio la capacità di razionalizzare prima i rischi, perché purtroppo la bellezza di questo territorio contrasta con la vulnerabilità del territorio stesso. La Calabria, siccome è una parte d'Italia, ma la Calabria è un territorio, venendo dalla Venezia, facendo questi pochi tiromani, vedi la cultura, vedi, degli individui un territorio sano da un punto di vista, come dire, culturale, ma è recente ci deve fare, e noi ci ritroviamo periodicamente, poi, e allora un cittadino consapevole di questo rende, come dire, una capacità migliore in ambito istituzionale. Per rispondere, come dire, anche alla sollecitazione corretta che faceva il prefetto sul fatto che magari non tutti i comuni hanno la possibilità, la capacità di trovare delle forme di aggregazione a livello comunale, queste sono esperienze che in altre parti d'Italia sono già avvenute, cioè i centri operativi intercomunali sono delle realtà, come il prefetto Bensà, operative, faccio l'esempio della Toscana, ma ne potrei fare altri.